Da oggi per tutta la settimana la testata giornalistica regionale della RAI affronta il tema della salute e della sicurezza sul lavoro, dedicando ampio spazio in tutte le nostre trasmissioni. Luca Di Francesco Antonio ha intervistato Luisa Sbrana, responsabile della comunicazione dell'Inele Liguria, all'argomento i dati su incidenti e malattie professionali. Quanto vale la prevenzione e quanto costano i danni dal lavoro in Italia? Prevenire conviene, è l'unica leva strategica che si è dimostrata in grado di contrastare e ridurre il costo che è umano, sociale ma anche economico degli infortuni da lavoro. I numeri? Pensiamo che sono 790 nel 2012 a livello nazionale i morti per causa di lavoro, dato relativamente positivo se confrontato con i 866 del 2011 e con i 1110 del 2008. Pensiamo che a livello nazionale sono 12 milioni le giornate lavorative perse a causa di inabilità sul lavoro, un costo che avrebbe potuto essere evitato se solo si fossero adottate misure di sicurezza adeguate, dispositivi, organizzazione aziendale, che chiama in gioco in un approccio sistemico tutti gli attori, lavoratori, datori di lavoro, istituzioni, parti sociali.